I grandi eventi costituiscono sempre un forte richiamo per un territorio di provincia, soprattutto quando fanno riferimento a temi caratterizzanti il luogo che rappresentano e sono quindi espressione di eccellenza. Per la cittadina di Piove di Sacco, un evento sportivo come la conquista del titolo europeo di box nella categoria pesi-piuma, mette in evidenza il temperamento dei giovani troppo spesso denigrato nei tempi moderni e la qualità di una scuola che con pochi mezzi e tanta passione ha saputo affermarsi in ambito internazionale, divenendo così emblema del territorio della Saccisica. Organizziamo questo campionato europeo pesi-superpiuma importantissimo per la cittadina di Piove di Sacco. Già nel 2001 ci fu un campionato mondiale junio tra Sanavia e il figlio di Monzon, di Carlos Monzon, una grande manifestazione che portò in piazza 7 mila persone. Quest'anno facciamo il bis con la sfida 2, dominata sfida 2 perché? Perché Davis Bumbon Moschiero che è qui a mio fianco, sfidante challenge ufficiale che sfida Armando Figatili, per la seconda volta incontrerà il pugile belga che tra altre cose nel frattempo è diventato campione europeo. Facciamo un boccalupo a Bumbon che è pronto, è pronto ad esaltare la piazza di Piove di Sacco ed esaltare questo sport, il pugilato, che è una grande funzione sociale. È definito nobile arte, detto francamente ha strappato certi personaggi, certi ragazzi della strada e li ha messi veramente in vetrina. La prima cosa che mi sento di dire è che è motivo di orgoglio non indifferente riuscire a essere riusciti a portare questo evento così importante a Piove di Sacco. È stato un duro lavoro che abbiamo fatto con l'amministrazione, fatto con la box piovese, col maestro Genofraia, però siamo orgogliosi di essere riusciti a portare questo incontro qua e speriamo che il titolo della cintura rimanga a Piove di Sacco. Boschiero è in forma smagliante, l'ho preparato insieme col maestro, io soprattutto a livello posturale il ragazzo ed è in forma strepitosa. Io spezzo una lancia a favore della box che secondo me è una disciplina fantastica, è un impegno mentale, non è differente, aiuta i ragazzi a crescere in maniera perfetta sia fisicamente che mentalmente perché il lavoro mentale è molto molto importante e Boschiero è pronto anche mentalmente. Sono molto orgoglioso di lui. Mi sono preparato molto bene per questo match, infatti non vedo l'ora di disputarlo anche perché sono tre mesi che mi preparo molto forte, grazie anche al mio maestro che ci siamo allenati duramente in palestra. L'ho già battuto comunque fegatelli, nel 2006 ho vinto bene ai punti. Cosa devo dire? So che è un pugile abbastanza tecnico però è fermo nelle gambe. Io ce l'amatoro tutta, volevo fare anche un ringraziamento a tutti i sponsor che hanno partecipato a questa riunione e soprattutto al logo quadro che mi ha regalato questa maglietta e che spero che in futuro diventerà anche un sponsor. Volevo ringraziare la box biovese che ci ha ospitato tramite Crazy Body palestre. Volevamo solamente farci vedere un attimo perché siamo appena partiti, volevamo farci conoscere del Made in Italy che facciamo. Noi siamo partiti per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente cercando di un prodotto diverso dal cotone che inquina l'ambiente. I nostri prodotti sono fatti completamente di bambù con raggio di lavorazione a 40 km al massimo della nostra azienda. Cerchiamo di inquinare il meno possibile anche per quanto riguarda il trasporto. I nostri prodotti sono disponibili presso la nostra azienda Vigo Novo di Venezia e anche sul sito www.logoquadro.it c'è il nostro shop online in cui uno può collegarsi e addirittura ordinarsi la roba che gli arriva direttamente a casa tramite il nostro corriere. Durante l'intermezzi di Pugilato e durante appunto gli incontri che saranno 5 più il match clou della serata avremo anche degli eventi, le esibizioni di fitbox e di box organizzate da Crazy Body e possiamo dire che siamo il bozzato e l'artefice. Ti vogliamo un attimo dar modo di far conoscere le arti da combattimento ad un pubblico sempre più vasto e in questo modo coinvolgere anche chi non ha voglia del contatto fisico e prendere ovviamente una cerchia appunto di persone che vuole intraprendere l'attività di combattimento per puro divertimento. Perciò nasce l'attività che si chiama Body Combat che sarebbe appunto l'insieme tra le arti appunto da combattimento, il fitness e la musica. La box spiovese è nata grazie a una passione di Gino Freo per il Pugilato ma in particolare di insegnare ai ragazzini questo sport. Lui l'aveva fatto per tanti anni da professionista, aveva cominciato naturalmente con lui da direttante a giovane e il suo sogno era formare una scuola qui a Piove di Sacco. Naturalmente piano piano crescevano i ragazzini, aumentava la palestra, la curiosità anche degli amici che si chiamavano l'uno con l'altro e finché sul giro di 2, 3, 4 anni è diventata una palestra importante ai primi posti delle classifiche regionali di Veneto fino ad arrivare proprio ai primi posti nazionali. Noi abbiamo vinto per due anni il campionato diciamo delle società, in Italia ci sono oltre 500 società dilettantistiche e noi per due anni abbiamo vinto il campionato come dire lo scudetto del calcio. Non so il chievo che vincesse lo scudetto per dire una roba del genere, ma siamo da diversi anni stabili tra le prime dieci comunque d'Italia. Lo spettacolo di questa sera è un'occasione importante per due finalità che riguardano il comune di Piove di Sacco. La prima è quella di offrire uno spettacolo sportivo di primissimo livello sul piano europeo per un campionato valevole in questo ambito. La seconda è quella di promuovere la città di Piove di Sacco nel proscenio sportivo con la presenza di questi importanti media per questo evento di grande importanza e di grande interesse vista anche l'affluenza notevole di partecipanti e di popolazione. Ovviamente non potrei non esprimere un ringraziamento sentito a nome di tutta la città a chi si è prodigato per la buona riuscita ed in particolare alla scuola di Box Piovese e alla persona di Gino Freo in particolare. Ovviamente formulo gli auguri di cuore a Davis Boschiero che credo darà il meglio di sé questa sera. La Box Piovese è l'eccellenza dello sport a Piove di Sacco. Quando il maestro Freo ci ha proposto l'incontro nel nostro comune abbiamo subito accettato di buon grado. La Box Piovese ha dato tanto a Piove di Sacco e Piove di Sacco deve restituire il favore all'associazione. Molti atleti del territorio praticano l'attività nell'associazione e molti di cui si sono diventati grossi campioni. La Box Piovese oltre a creare una scuola di sport ha anche creato una scuola di disciplina e di educazione. Quindi la doppia valenza sociale sia a livello sportivo sia a livello educativo. Un augurio per il nostro Davis, questa sera l'opportunità di rimettersi in pista e di conquistare qualcosa di importante. Speriamo sia così. I miei più cari auguri e l'imbocca al lupo per una grande serata di sport. E questa sera mi auguro che vinca veramente lo sport. Speriamo sia così.